Il Monte Pulciano d'Abruzzo compie 50 anni e Lanciano lo festeggia con le cantine cooperative in piazza Plebiscito. L'iniziativa è targata a Lanciano Fiera in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e il patrocinio del Comune di Lanciano. Un evento per celebrare il cinquantennale del Monte Pulciano d'Abruzzo è un dato dovuto, sottolinea il Presidente del Consorzio Valentino di Campli. La produzione di vino passa per oltre l'85% attraverso le cantine sociali che associano oltre 20.000 produttori. Le cantine abruzzesi sono in totale 40, di queste 33 sono nella provincia di Chieti. È la provincia che annualmente insieme ad altre due o tre province italiane si gioca il primato della produzione nazionale. Questo è un fatto molto rilevante perché da tanti anni, ormai è così, il patrimonio vitivinicolo è stato mantenuto anche in anni di forte crisi. In passato oggi abbiamo una produzione in gran parte di rosso Montepulciano d'Abruzzo ma anche di bianco di grande qualità. E questo è stato sicuramente merito della capacità aggregativa delle cooperative che hanno consentito a famiglie anche con piccoli appezzamenti di un ettaro, mezzo ettaro, un ettaro e mezzo, di poter continuare a coltivare e a insieme portare sulle tavole di tutto il mondo il nostro Montepulciano d'Abruzzo. Testimonial dell'evento è in programma venerdì 3 agosto e Patricio Roversi, noto conduttore di Linea Verde, che coordinerà il convegno pomeridiano nell'auditorium di Ocleziano. L'idea, spiega il presidente di Lanciano Fiera, Franco Ferrante, è nata con l'obiettivo di sottolineare il lavoro e i risultati raggiunti dalle cooperative agricole dell'area frentana. Quasi sentiti in obbligo di pensare a questo, perché la fiera dell'agricoltura è iniziata più o meno nello stesso periodo, 55-60 anni fa. Allora è una specie di filiera che si trascina dietro la fiera dell'agricoltura e quindi dobbiamo cercare di valorizzare chi si è speso molto per dare un futuro e un'economia a questa regione. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l'assessore comunale alle attività produttive e agricoltura, Francesca Caporale. Abbiamo ad arrivare a un punto in cui comunque l'eno gastronomia e il turismo a 360 gradi possano essere il nostro punto di arrivo e quindi sarà sia la volontà del mio assessorato ma quello a 360 gradi di tutto il territorio di portare appunto Lanciano con la costa dei Trabocchi e con tutto quello che è il territorio della Frentania ad avere un apporto importante da questo punto di vista. Stand in piazza per le degustazioni, spettacolo serale con il sentimento agricolo d'induccio.